Buongiorno a tutti, con questo breve video tutorial andremo a far vedere come inserirsi in elenchi aggiuntivi prima fascia GPS qualora non si abbia una provincia in cui si è inseriti per altre classi di concorso. Andiamo su Istanze Online, alla voce Istanze, scendiamo e andiamo a trovare proprio in forma i elenchi aggiuntivi gradatori provinciali di supplenza personale docente ed educativo. Si va alla compilazione, una volta entrati nella parte riferita alle avvertenze per il trattamento dei dati personali facciamo accedi ed entreremo in una pagina per la scelta della provincia. Si sceglie la provincia dall'elenco di tutte le province italiane, per esempio andiamo a scegliere Cosenza e facendo avanti entreremo in una pagina con tutti i nostri dati anagrafici. Facendo ancora avanti dalla pagina con i dati anagrafici si passa al modello di presentazione della domanda. La prima cosa da fare è inserire attraverso le azioni disponibili la scelta della gradatoria per cui si vuole essere inseriti in elenco aggiuntivo prima fascia GPS. Si fa accedi e aggiungiamo gradatoria. Ora, questo accadrà all'aggiunta della gradatoria anche per chi è inserito in GPS normalmente. L'unica cosa che non può fare chi ci ha inserito è la scelta della provincia, ma su aggiungi gradatoria si agisce in maniera analoga anche per quanto riguarda chi è già inserito. Dunque si fa aggiungi gradatoria, si sceglie il tipo di gradatoria, vedete abbiamo tutte le prime fasce possibili. La gradatoria provinciale, il tab 1 per inserirsi in prima fascia di infanzia e scuola primaria, chiaramente posto comune, oppure il tab 3 che è riferito alla prima fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado posto normale, oppure il tab 5 che è riferito per gli ITP prima fascia proprio per gli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria di primo e secondo grado. Poi il tab 7 che è riferito ai posti di sostegno di tutti i gradi di istruzione e poi il tab 9 per il personale educativo. Facciamo per esempio il sostegno perché è quello più diffuso come titolo di specializzazione. Cliccando il sostegno poi si va sul T, la tipologia, il tipo di posto che può essere. A per la scuola dell'infanzia, ADEE per il sostegno della primaria, ADMM per la scuola secondaria di primo grado, ADSS per quella di secondo grado. Andiamo al secondo grado per esempio. Ecco che si apre la possibilità di indicare il titolo, la sezione A1 e il titolo di accesso alla gradatoria, per esempio sostegno sullo specifico grado, oppure il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero è valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine, è riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9. Chi dunque ha conseguito all'estero deve cliccare qui. Chi invece ha fatto un TFA normale deve cliccare il titolo di specializzazione. Dunque ci sono le varie voci, per esempio se uno l'ha conseguito all'estero deve cliccare ripeto questa opzione, altrimenti questa. E dopo di che deve inserire il giorno di conseguimento, per esempio facciamo il 5 luglio 2021, istituzione presso cui è stato conseguito il titolo, per esempio Università Unical di Rende Cosenza. il voto del titolo di accesso, per esempio 100 su base 100, e poi il dettaglio del titolo, cioè percorsi di specializzazione, oppure analoghi all'estero. Che si fa? Inserisci. Si inserisce il titolo, l'operazione. Ecco che compare qui la gradatoria. Chiaramente questa compare semplicemente perché aggiunta dove non ce n'erano altre, ma altrimenti se ce ne fossero altre, comparirà per questa gradatoria tra tutte le altre, che non vanno assolutamente toccate e cancellate, rimane questa. Allora a questo punto le azioni disponibili per la modifica, se si è sbagliato si va a modificare, altrimenti si torna indietro. Tornando indietro che cosa abbiamo? Abbiamo da poter inserire gli altri titoli, per esempio si può inserire un ulteriore titolo rispetto al titolo di accesso, vedete, facendo accedi, si ha la possibilità di inserire gli altri titoli, riferiti chiaramente tutti al tab 7, perché deve essere riferito al tab 7, vedete? Ecco qui gli altri titoli, per esempio se ci fosse qualche titolo accademico di certificazione informatica, si va su azioni disponibili, inserisci, si inserisce, si aggiunge il titolo di informatica, per esempio il titolo ECDL, la data di conseguimento, questa può essere anche anteriore, può essere un vecchio titolo, per esempio del 2019, facciamo per esempio un titolo preso il 18 giugno del 2019, preso AICA e facendo inserisci, si inserisce il titolo, vedete? Ecco inserite il titolo e spunta, e così via tutti gli altri titoli culturali che vanno inseriti in un contesto della gradatoria in cui ci si inserisce, per esempio se c'è un dottorato di ricerca, si inserisce anche il dottorato di ricerca e dunque si fa aggiungi, titolo, dottorato di ricerca, conseguito per esempio nel 2018, maggio 2018, 24 maggio, università di Messina, si inserisce e anche questo è inserito, ecco, questo per farvi capire come inserire e così via se ci sono i titoli di servizio, obbligatori sono le altre dichiarazioni, i titoli di servizio per esempio se qualcuno avesse fatto del servizio e volesse inserirlo si aggiunge titolo di servizio, si aggiunge titolo di servizio, si seleziona l'insegnamento, per esempio è riferito all'unica gradatoria che può essere fatta, si dice l'anno scolastico, si valuta il servizio se è stato prestato nei percorsi di istruzione europea, se è stato prestato in Italia per esempio si mette no, come si faceva quando si inserivano i servizi precedentemente. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri spettatori, continuate a seguirci nei nostri canali social, YouTube, Facebook e nel nostro sito www.tecnica.scuola.it. Un saluto a tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.